La transizione digitale è un fenomeno ipocale che sta trasformando profondamente il nostro mondo. In un'epoca in cui la tecnologia avanza a una velocità senza precedenti, la transizione digitale rappresenta il passaggio fondamentale dalla tradizionale economia a una nuova era digitale. Questa trasformazione sta rivoluzionando le nostre vite, le nostre aziende e le nostre società, in modi che influenzano ogni aspetto dell'umanità. Se da un lato offre infinite opportunità di innovazione, efficienza e accesso globale all'informazione, dall'altro presenta sfide in termini di sicurezza, privacy e equità. In questa puntata proveremo a capire innanzitutto che cosa vuol dire esattamente il termine digitale, che non è sempre così scontato. Parleremo di modelli organizzativi sostenibili e di transizione digitale. Benvenuti alla sesta ed ultima puntata del progetto Eco più Eco, l'industria del futuro tra transizione ecologica e economia circolare, un progetto della terza missione dell'Università di Urbino e Confindustria Pesaro Urbino, insieme alla collaborazione di Lega Ambiente. In questa ultima puntata parleremo di transizione digitale, ma non possiamo farlo da soli. Per questo abbiamo il piacere di avere ospiti qui con noi oggi Francesca Capodagli, benvenuta. Grazie dell'invito. Vicepresidente di Valmex, azienda tra i più importanti produttori a livello mondiale di scambiatore di calore per il settore idrotermosanitario e fornitore di tutti i più grandi produttori di caldaio. Un curriculum niente male per la vostra azienda. Benvenuti ancora. e Alessandro Bogliolo, professore ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso l'Università degli Studi di Urbino, Carlo Bo. Benvenuto, professore. Ben trovato e grazie dell'invito. Professore, cominciamo da lei. Per capire che cosa vuol dire la transizione digitale, dobbiamo penso fare un passo indietro e provare a capire che cosa vuol dire il termine digitale, in senso stretto. Benissimo. Noi di solito associamo questo aggettivo alla tecnologia e pensiamo che le tecnologie digitali siano i computer, gli smartphone, internet, il web. In effetti lo sono, quindi è corretto. Ma digitale è prima di tutto un modo di rappresentare l'informazione. Possiamo dire che è digitale tutto ciò che può essere rappresentato come una sequenza di segni o di simboli presi da un alfabeto. Ed ecco allora che scopriamo che è digitale ovviamente la rappresentazione dei numeri, perché sono fatti da sequenze di cifre. Ma sono digitali anche le parole, perché le componiamo componendo delle lettere in sequenza. E addirittura è digitale anche il linguaggio, perché noi parliamo componendo dei suoni convenzionali che sono i fonemi propri della nostra lingua. Ed ecco allora che digitale risale alla notte dei tempi in qualche modo. E possiamo dire che sia una peculiarità umana che ha rappresentato un vantaggio competitivo, diciamo così, per l'Homo sapiens fin dalla preistoria. E poi effettivamente il linguaggio, la scrittura hanno consentito all'uomo di avere una cultura e di essere tutto sommato umano. E possiamo dire che è digitale tutto ciò che può essere dettato. E in effetti la scrittura e il dettato, se ci pensiamo, riescono a superare lo spazio e il tempo. Ed è proprio il dettato quello che i computer fanno comunicando via internet. Quindi un concetto molto più ampio di quello che normalmente si considera appunto quando si parla di digitale, quando si parla del tema digitale. In questo progetto però parliamo di transizione ecologica. Quindi come entra in gioco la transizione digitale? Innanzitutto che cos'è la transizione digitale e che cosa ha a che fare con la transizione ecologica? Molto interessante perché la transizione digitale è in qualche modo l'applicazione delle tecnologie digitali all'efficientamento, diciamo così, dei processi. Processi non quelli giudiziari, ma i procedimenti che servono a produrre qualcosa, a realizzare un obiettivo, e quindi la transizione digitale è vero sì che ha a che fare con la tecnologia, ma ancora una volta prima di tutto riguarda le persone, perché sono loro coinvolte nel portare avanti questi procedimenti. E perché c'è un legame tra transizione digitale e transizione ecologica? Ma perché abbiamo detto che la transizione digitale ha come primo obiettivo l'efficientamento e l'efficienza è anche efficienza energetica e l'efficienza energetica vuole anche dire sostenibilità e quindi indubbiamente la transizione digitale è uno strumento per la transizione ecologica. Ok, quello che potrebbe essere interessante adesso capire, passo appunto a fare la prossima domanda alla dottoressa Capodagli, è provare a capire come si traduce questa transizione digitale all'interno di una realtà aziendale. Immagino ci possono essere delle criticità, delle difficoltà, ma anche dei vantaggi o delle accortezze che bisogna avere appunto dal punto di vista aziendale. Sicuramente è un percorso che va programmato, nel senso che Valmex è partita da un'analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza. Partendo da questi abbiamo tracciato una roadmap, cioè un percorso che servisse proprio ad efficientare quelli che erano i processi aziendali. Infatti possiamo dividere in tre grandi aree la digitalizzazione. Una parte che è quella di infrastruttura, vi dovete immaginare un po' le fondamenta della casa, senza le quali non è possibile costruirla. Poi una parte di software e quindi di strumenti che servono proprio per agevolare le attività umane e le attività all'interno dell'azienda. E una parte di sicurezza, quindi una sorta di impianto di allarme per evitare intrusioni e furti all'interno dell'azienda. Fatto questo, si sviluppano dei progetti coinvolgendo le persone, perché naturalmente senza il coinvolgimento di tutti i dipendenti e i collaboratori, solitamente questi progetti non hanno successo, perché sono loro che conoscono i metodi di lavoro e come stanno lavorando e quindi possono aiutare l'azienda a trovare un modo più efficiente, quindi recuperare tempo, non effettuare attività inutili, piuttosto che attività che non portano valore all'azienda stessa. Ecco, la transizione digitale, come appunto ci stava raccontando, è un'innovazione, una sfida a 360 gradi, ci coinvolge sotto diversi aspetti. Allora, volevo chiedere quali sono le sfide della transizione digitale dal punto di vista sociale e professionale? La domanda la rivolgo a entrambi, ma lascio la precedenza a Francesca. Sicuramente per le nuove generazioni, quindi i dipendenti, i collaboratori che entrano in azienda, c'è un vantaggio rispetto, per esempio, a generazioni precedenti, quindi non nate digitali. Sicuramente la sfida per le aziende è formare i propri collaboratori, formarli, come dicevo prima, al fine di coinvolgerli, perché senza rapporto umano il digitale è un investimento di poco valore e che quindi non dà un vantaggio competitivo all'azienda. Professore, le rivolgo alla stessa domanda. Quali sono appunto le sfide della transizione digitale dal punto di vista sociale e professionale? La sfida è quella delle competenze, ed è una sfida di competenze e di inclusione, se vogliamo. Abbiamo detto prima che digitale è una peculiarità umana, ma in realtà moltissimi si sentono esclusi o lasciati indietro. Quindi la sfida delle competenze, secondo me, va divisa in tre sottosfide, diciamo. La prima è quella di inclusione, quindi di alfabetizzazione digitale. E non ci deve stupire che ci sia un problema di alfabetizzazione, perché se abbiamo detto che anche la scrittura è una tecnologia digitale, pensiamo a quanti secoli ci sono voluti per combattere l'analfabetismo, che vuol dire proprio l'incapacità di leggere e di scrivere, e quanto ancora questo non sia di fatto eradicato. Quindi non ci deve stupire se tecnologie che esistono da dieci anni o da meno, perché le ultime, diciamo, sono ancora più recenti, comunque richiedono uno sforzo per essere in qualche modo utilizzate consapevolmente. La seconda sfida è quella della riqualificazione, nella quale le aziende sono impegnate in prima linea e hanno al fianco le università, i centri di formazione. E la terza sfida, che forse è per certi versi ancora più strano, che non venga colta a pieno, è quella delle competenze avanzate. Perché è chiaro che un motore di sviluppo come le tecnologie digitali ha bisogno di forza, ha bisogno di menti, ha bisogno di tanti giovani e di tante giovani che intraprendano studi e carriere in quest'ambito per essere loro i protagonisti dell'innovazione. Ecco, questo purtroppo ancora non avviene quanto sarebbe necessario che avvenisse. E in particolare qui credo che il problema sia più di domanda che di offerta, nel senso che esistono ottimi percorsi di formazione. Le università, la nostra tra le altre ovviamente, sono assolutamente in grado di offrire degli ottimi percorsi di formazione. Le aziende poi fanno la loro parte nello specializzare i laureati, le laureate che assumono, ma ci sono ancora pochissimi giovani e pochissime giovani che intraprendono questi studi. Ecco, pochi giovani e a parte i giovani, non sempre la realtà in cui viviamo capisce il valore della transizione digitale, non sempre anche le aziende ne capiscono il valore. Ce ne sono alcune che sono più attente, più virtuose e altre invece sono un po' più restie forse a fare questa transizione digitale. Quindi quello che vorrei capire è se è un po' considerato una corsa a essere più bravi degli altri, questo volersi innovare, questo volersi trasformare con questa transizione digitale, oppure se è anche una possibile soluzione per stimolare tutto il tessuto imprenditoriale del territorio. Ma ritengo che la risposta sia scontata, cioè il fatto che intraprendere un percorso di innovazione digitale porta a un miglioramento di tutto il contesto economico e sociale in cui si trova l'azienda. Valmex ne è un esempio, tant'è vero che durante parte dei progetti sono stati coinvolti dei fornitori e Valmex in quanto grande azienda ha dato supporto ai propri fornitori al fine di farli avanzare sia nella parte di cyber security, quindi di sicurezza informatica, sia nella parte di software di produzione. Mi spiego meglio, non credo che ci sia una chiusura da parte delle piccole aziende, ma è più un tema di risorse. Sicuramente una grande azienda può mettere in gioco persone e anche risorse economiche. Una piccola azienda ha magari nell'immediato altre priorità, pur comprendendo che introdurre dei software, digitalizzare, migliorare la sicurezza informatica, portano anche a un miglioramento economico, ma se la priorità è un'altra, passa in secondo piano la digitalizzazione. Quindi credo che il ruolo di aziende come Valmex sia quello di creare delle filiere e quindi di supportare i propri partner, sia a Monte che a Valle. Quanto tempo ci è voluto per Valmex per fare questa transizione digitale? È stata una cosa breve o un lungo percorso anche immagino articolato? È un percorso che mi sento di dire è partito grazie a mio padre, quindi è l'ingegnere Capodagli, che è il fondatore di Valmex, che ha sempre avuto uno spirito da pioniere. Quindi introdusse il primo IRP in azienda negli anni Ottanta. Quindi, diciamo, pur essendo un'azienda di piccole dimensioni, lui già allora vide il potenziale Esatto, cioè il potenziale e il vantaggio che poteva dare l'utilizzare determinati strumenti, non solo a lui, all'azienda e ai collaboratori. Poi è chiaro che negli anni la tecnologia si è evoluta, l'azienda è cresciuta e le possibilità per Valmex di investire in tecnologie digitali sono aumentate. Va anche ricordato il fatto che i nostri clienti ci hanno agevolato nell'investire in tecnologie digitali. Quindi mi sento di dire che è un percorso lungo e sicuramente non è un percorso che termina oggi, ma che è in fieri e quindi che si evolverà nei prossimi anni. Porta sicuramente dei vantaggi appunto per tutto l'ecosistema intorno all'azienda, anche per i clienti, per i fornitori, quindi si stimola un po' tutto il circondario delle persone che operano intorno all'azienda. Dal punto di vista sociale, professore, questa transizione digitale è un po' una corsa in cui si corre da soli? Francesca Capodagli ci stava raccontando che dal punto di vista aziendale ovviamente no, bisogna correre tutti insieme, insieme appunto ai fornitori, ai clienti e a chi investe sull'azienda. Dal punto di vista sociale invece, ci raccontava prima di un problema di domande e offerte, quindi c'è forse una poca anche consapevolezza da parte delle persone di questo valore della transizione digitale. Ma sì, diciamo, c'è probabilmente anche una certa reticenza a mettersi davvero in gioco nel portarla avanti e nell'esserne protagonisti e artefici. E poi c'è uno scoraggiamento o una rassegnazione nel sentirsi indietro e quindi pensare che non si possa comunque tenere il passo. Ma in ogni caso, qualunque tipo di transizione in realtà va fatta insieme, perché è una transizione che riguarda tutti. Non è che dici, vabbè, io sono transitato al digitale. Ok, che significa? Cioè che cosa fai da solo con le tecnologie digitali se non sei in un contesto in cui tutti sono in grado di utilizzarle? Quindi le aziende, gli enti pubblici sono ovviamente stimolati a sfruttarle per efficientare i processi di cui tu poi finirai per beneficiare, ma soltanto se anche gli altri potranno farlo. E l'esempio di Valmex direi che è estremamente significativo perché se addirittura per le aziende non è una corsa ad essere i migliori, ma hanno un vantaggio e percepiscono il vantaggio nel tirarsi indietro l'indotto e magari, perché no, anche i concorrenti, perché anche i concorrenti in qualche modo contribuiscano a tirarsi indietro l'indotto ai fornitori. Perché è chiaro che se è un problema di efficienza e siamo tutti anelli di una catena, per quanto grandi come Valmex, è chiaro che tutto è efficiente se è efficiente anche ciò che viene prima e ciò che viene dopo. Per cui non c'è nessun interesse ad essere i più efficienti del mondo se non eventualmente in un vantaggio diciamo economico poi nell'efficientare i propri processi al proprio interno e questo evidentemente sì. Ma l'altra ragione per cui la transizione digitale è bene che coinvolga tutti è perché una delle ragioni per cui vi ho dato questa definizione di digitale è proprio perché nessuno si sente escluso, perché siamo tutti nativi digitali nell'accezione del termine digitale che dicevamo prima. E quindi è chiaro che non dobbiamo da un lato pretendere che tutte le nuove tecnologie ci siano automaticamente familiari perché purtroppo così non è. Tutto richiede uno sforzo, è un apprendimento continuo. il digitale non è diciamo da meno e anzi forse è la cosa che evolve più rapidamente. Ma l'altra ragione è che in realtà le tecnologie digitali oltre ad efficientare i processi sono anche paradossalmente, si parla di divario digitale, ma sono in realtà uno strumento di inclusione perché con le tecnologie digitali si può diventare partecipi e percepire qual è il proprio contributo anche nel perseguimento di obiettivi collettivi. E se la transizione digitale è un obiettivo collettivo, ancora di più a maggior ragione lo è la transizione ecologica. Ecco, il digitale può anche essere strumentale a questo nel dare agli individui la consapevolezza di quanto importanti siano le proprie decisioni, le proprie azioni, i propri comportamenti. E qui mi sento di dire che se da un lato è vero che le transizioni in generale sono processi che devono coinvolgere tutti e quindi processi inclusivi, però questo non deve essere un alibi per non essere noi a fare la nostra parte dicendo beh, se lo devono far tutti aspettiamo che ci sia una legge, aspettiamo che venga imposto. No, non è così perché siamo bravissimi a trovare l'inganno se c'è una legge ma non dobbiamo percepirlo come un'imposizione, dobbiamo percepirlo come un'opportunità, come un obiettivo comune da perseguire e dobbiamo essere consapevoli del fatto che la nostra azione produrrà un impatto. Anche se da sola non serve a niente, senza la nostra azione la transizione non ci sarà. E questa responsabilità la dobbiamo sentire ciascuno su se stesso ed è anche una responsabilità nel non farsi lasciare indietro. Io mi permetto di chiudere mentre parlavo è venuto in mente un detto di un popolo asiatico che dice non c'è nessun vantaggio arrivare prima in una corsa se poi quando arrivi al traguardo non c'è nessuno con cui festeggiare. Quindi questo penso che un po' racchiuda il concetto di cui abbiamo parlato oggi, questo viaggio senza ritorno che è la transizione digitale perché ormai non possiamo più tornare indietro ma dobbiamo guardare il futuro, dobbiamo continuare ad andare avanti e cercare di stare dietro a questa transizione e sfruttarla al meglio sia per i cittadini che per le aziende ovviamente ma per tutta la società in generale perché il nostro futuro è digitale, lo era il nostro passato come ci ha raccontato il professor Bogliolo, lo è sicuramente il nostro presente come si racconta Valmex e lo sarà sicuramente ancora di più il nostro futuro. Io vi ringrazio per essere stati con noi a questa sesta ed ultima puntata di EcoQ Eco, ringrazio Francesca Capodagli di Valmex per il vostro impegno che l'azienda mette in atto ogni giorno, quindi grazie di essere stata con noi. Grazie a voi. E ringrazio il professor Bogliolo per l'impegno e la costanza che lei mette nel cercare di trasmettere queste informazioni, queste conoscenze ai giovani, agli studenti che saranno poi i lavoratori, gli imprenditori del domani, quindi grazie di essere stato con noi. Grazie e complimenti per questa iniziativa. Bene, il progetto EcoQ Eco, l'industria del futuro tra transizione ecologica ed economia circolare è un progetto che mira a stimolare riflessioni e generare consapevolezza su temi ormai cari e fondamentali per la vita del nostro pianeta. Speriamo che in queste puntate abbiate trovato spunti, curiosità, racconti e visioni innovative e che tutti insieme possiamo rendere il nostro pianeta un posto migliore. Ringraziamo l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per l'apporto tecnico-scientifico, ringraziamo Confindustria Pesor Urbino per le testimonianze di aziende virtuose, ringraziamo Lega Ambiente per il punto di vista sociale e ambientale e infine ringraziamo tutti voi che ci avete seguito in questo progetto. Grazie per essere stati con noi e per essere parte di questa straordinaria transizione digitale, economica ed ecologica. Buona serata.